presentiamo un gruppo molto interessante nell'ambito di quella rassegna che noi abbiamo comunque dedicato al country questa settimana perché a Brescia ci sarà appunto in data, ditemi la data 1 e 2 giugno ecco 1 e 2 giugno ci sarà la settimana del country invece la convention del country indetta dalla rivista che va nominata perché non è pubblicità perché sono riviste proprio che si chiama Hi Folks è una rivista che appunto vive come può che difficilmente trovi chiede in tutte le edicole loro andanno a suonare lì, si chiamano Southern Comfort band, vengono da Milano e direi che fate una musica molto interessante che è riduttivo chiamare soltanto country perché come la chiamereste? Si chiama New Acoustic Music, è una musica che prende spunto da vari geni musicali come la musica country, il jazz, la musica classica e fa un misto una grandissima fusione di musica, una musica veramente molto interessante con echi riconoscibili ma veramente molto, tanti, tanti echi benissimo, allora la Southern Comfort Band qui a Quelli della Notte con tanti agui grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.